Salve a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei dialoghi di Pandora rivista. Siamo qui oggi con Massimo Cacciari, uno dei protagonisti della vita culturale del dibattito pubblico italiano, professore emerito di filosofia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, alle spalle come sapete una ricchissima produzione intellettuale, è qui impossibile ricordare in maniera esaustiva diciamo le sue opere, ricordo solo Crisis dell'inizio, della cosa ultima, Labirinto filosofico e tra i più recenti Il lavoro dello spirito e Paradiso e Naufragio in cui si affronta l'opera di Musil uscito appunto molto recentemente. Con Massimo Cacciari rifletteremo a partire dal concetto di crisi e io vi invito se non l'avete ancora fatto a seguire il nostro canale e possiamo iniziare subito dopo la sigla. Ecco, il concetto di crisi è un concetto che è molto presente in tutto il percorso della sua riflessione intellettuale, appunto ho ricordato Crisis che è un libro appunto del 1976 che da un lato si legava appunto ai dibattiti di allora ma in cui ovviamente molti elementi su questa riflessione venivano già posti. Ecco, per riflettere su questo io partirei da una considerazione diciamo di base, quando noi parliamo di crisi nel senso comune e nel dibattito pubblico tendiamo a pensare alla crisi come a un momento di sconvolgimento tra due equilibri, quindi a una fase momentanea che viene poi superata. Ecco, quando parliamo invece di crisi in questo senso intendiamo qualcosa di più radicale, quali sono i contorni appunto di questo concetto di crisi? Beh, cerchiamo di andare in ordine perché questo concetto è complicato e dal punto di vista filosofico e dal punto di vista scientifico e si combina o si confonde con altri che a volte vengono assunti quasi come analoghi o identici addirittura e invece non lo sono, quindi potremmo partire anche dal titolo di quel mio vecchio libro che per vari motivi non ho più voluto ripubblicare ma che poi in qualche modo ha segnato anche la mia ricerca successiva fino a questo ultimo che è dedicato a un autore, Musil, che è centrale in tutto il mio pensiero direi e che è presente anche nel vecchio libro del 76 e cioè lì si individuava una crisi alla fine del XIX secolo a cavallo tra 1848 e 1815-18, una crisi che era una discontinuità netta, che individuava una rottura, cioè non semplicemente un momento o di trapasso o di riaggiustamento, cioè non un momento, ma un taglio, un taglionetto, un taglionetto che è segnato in particolare da un autore, a mio avviso, che Musil dice essere un evento nello spirito europeo, cioè Nietzsche, segnato da quell'autore in particolare ma poi segnato dal crollo di una visione deterministica, meccanicistica in tutte le scienze, non soltanto le scienze della natura ma anche quelle che poi si chiameranno le scienze anche allora, anzi non poi scienze dello spirito. Cioè lì Crisi assumeva il senso di una rifondazione, non di una semplice trasformazione, ma di una rifondazione. Era una catastrofe, lì Crisi assumeva il significato di catastrofe nel senso tecnico, cioè di un mutamento di stato. La materia, per così dire, dello spirito europeo conosceva una catastrofe che poi è stata, come dire, fisicamente rappresentata, si è incarnata nella grande guerra, in quella catastrofe dell'Europa che è la prima guerra mondiale e di cui la seconda è la continuazione logica o illogica che dir si voglia, ma in effetti la continuazione. Il suicidio d'Europa, una catastrofe. L'Europa politica, l'Europa delle grandi potenze si è suicidata, però nello stesso tempo questa catastrofe è una rifondazione. Cioè lì appunto in Crisi, ma poi sempre, ho reagito ad ogni interpretazione irrazionalistica di questo periodo, come ci fosse stata l'insorgere di posizioni irrazionali che hanno determinato la crisi del precedente assetto, del precedente Stato, della cultura anche in senso antropologico europea. No, lì è stata una catastrofe dove la materia dello spirito europeo attraverso questa catastrofe, grazie o a causa di questa catastrofe, a seconda dei punti di vista, ma non cambia nulla, perché non dobbiamo ragionare in termini di valore su questo piano, ma proprio in termini diciamo quelli scientifici, vedere la cosa, rifonda una propria razionalità e questo vale per la filosofia, per la scienza, inizia una nuova fase attraverso la catastrofe, quindi una crisi è produttiva. La catastrofe produce un nuovo Stato, un nuovo Stato però che si determina in assoluta discontinuità rispetto al precedente. Qualsiasi spiegazione di termini storicistici, causali, non regge. Lì c'è una crisi che è catastrofe, ma la catastrofe rifonda. La catastrofe determina e produce un nuovo Stato, un nuovo Stato della politica, un nuovo Stato della cultura, un nuovo Stato della filosofia, un nuovo Stato delle scienze. Questa è la prima idea di crisi, cioè se la intendiamo radicalmente dobbiamo intenderla come una catastrofe rifondativa e questo è contro il senso comune, no? Ma così va intesa e così è stata. Però va inquadrata in un discorso molto più ampio, perché noi continuiamo, potremmo intendere anche in questa accezione la crisi come un momento. Invece dobbiamo vedere la natura, direi quasi ontologica, che queste idee di crisi, catastrofe rifondazione, assume nella nostra civiltà. La nostra civiltà è, a mio avviso, caratterizzata, mentre in crisi, in altre cose, vedevo la eccezionalità quasi di questa epoca, la crisi tra 800 e 900, eccetera, ora sarei molto più portato a vedere questo elemento come un elemento assolutamente determinante di tutta la nostra civiltà. Cioè la nostra civiltà, in particolare la civiltà moderna, è, come il diceva Burkhardt, una rivoluzione, una epoca della rivoluzione. È l'epoca della rivoluzione, la nostra civiltà. Quindi il meccanismo di crisi, catastrofe rifondativa è ontologicamente connesso alla natura della nostra civiltà. Questo è il punto su cui insisterei oggi, anche grazie appunto a una certa concezione della nostra civiltà che è emersa poi successivamente alla crisi di cui parlavamo in filosofie come quella di Heidegger per un verso, di Severino per un altro, eccetera, eccetera. Questo carattere rivoluzionario, non nel senso etimologico del termine rivoluzione o riforma, cioè di un ritorno ad una forma precedente, ma nel senso catastrofico che ho detto, è connesso alla nostra civiltà, ma in particolare alla civiltà moderna, che nasce con questa intenzione. I grandi della civiltà moderna, in particolare Cartesio da un lato e Spinoza dall'altro, nascono quasi con una intenzione di tabula rasa. Le loro filosofie, i loro metodi, si presentano espressamente come una revoca in dubbio radicale, ma non semplicemente revoca in dubbio. Cartesio dice tutto ciò che non è passato al vaglio della mia ragione, al vaglio del mio metodo, io lo ritengo falso. Non è che semplicemente una revoca in dubbio, una sospensione del giudizio, è un giudizio potente. Fintanto che non ho vagliato attraverso il mio metodo, la mia ragione, io giudico tutto falso. Ecco, infatti uno dei punti su cui appunto avrei provato a riflettere era il rapporto appunto tra questa crisi che in un qualche modo è inseta nella modernità, quindi questa crisi di lungo periodo, e poi il passaggio più specifico di crisi determinata che si determina appunto in quel frangente storico del passaggio tra... Beh, la specificità è evidente, ma però l'approccio è analogo. Io intendo determinare una crisi che assume il carattere della catastrofe, cioè che assume il carattere della discontinuità netta, è nello stesso tempo della rifondazione che è resa possibile da questa decisione. È chiarissimo nel discorso sul metodo in Spinoza, decido rispetto al passato, non ne sono erede. E questo è formidabile, è essenziale da capire. Viene meno la figura del figlio erede, che ancora era centrale nell'umanesimo e perversi nel Rinascimento. Qui c'è un distacco netto rispetto all'epistemologia scientifico-filosofica del moderno, segnata appunto dalle grandi figure, in particolare appunto di Galileo per un verso e poi di Cartesio e di Spinoza. Netto. Non c'è più la figura del figlio erede, che ancora è fondamentale nell'umanesimo. No. Quindi il mio metodo è il metodo di una revoca in dubbio che assume il carattere del radicale rigetto di tutto ciò che è eredità e nello stesso tempo nulla di razionale, anzi in nome di una razionalità finalmente appunto, che si possa affermare finalmente in forma piena e autonoma. Autonoma che vuol dire che la cui legge non deve nulla autonoma appunto ad un passato. Quindi è un meccanismo fondamentale, perché troppe volte si insiste sul fatto che questa idea di novitas, di tabula rasa eccetera, è tipica di un certo infuturamento tipico del pensiero moderno, del pensiero contemporaneo, non è vero. È fondamentale per capire il pensiero moderno, ma nello stesso tempo questo pensiero moderno non sarebbe pensabile, perché non nasce da nulla, senza il valore straordinario che proprio la novitas assume nella Europa o cristianità. E questo è il punto fondamentale. Quindi vi è storicamente, noi dobbiamo capire, che vi è continuità in questo approccio, che vede la crisi tendenzialmente come catastrofe e la rifondazione che si ottiene soltanto attraverso la crisi, decisione, catastrofe. Però in questa storia, meglio dire, in questo destino forse dell'Occidente, in ogni epoca vi sono caratteristiche specifiche ovviamente, perché questa catastrofe di rifondazione assume nel moderno, negli attori che abbiamo citato, il carattere appunto di un'epistemologia deterministico, meccanicistica eccetera. Mentre la novità straordinaria della catastrofe di cui parliamo tra l'800 e l'900 è il rovesciamento di questa epistemologia classica. E cioè l'affermazione, che nel romanzo di Musil trova una rappresentazione straordinaria appunto di una conoscenza che è razionale, quindi è qui il motivo della rifondazione nulla di razionale, che è razionale soltanto nella misura in cui assume un paradigma di tipo indeterministico, di tipo probabilistico, di tipo statistico. E questo vale dappertutto. Ecco, veniamo appunto quindi alla sua ultima opera Paradiso e Naufragio e alla configurazione che appunto assume la problematica che si pone in Musil e in particolare nell'uomo senza qualità. L'uomo senza qualità, Musil è un letterato per modo di dire, è un uomo di straordinaria cultura la cui tesi è dedicata a Marx, che è insieme a Boltzmann uno dei fondatori di una prospettiva relativistica nel senso scientifico del termine. Boltzmann è il grande genio di questo primo, Boltzmann è il grande genio, la interpretazione in senso statistico dei principi della termodinamica è il fondamento logico di tutta la fisica successiva. Boltzmann è il grande morto-suicida a Duino, non compreso, voto-suicida anche per la totale incomprensione a cui questo suo approccio era soggetto in quel periodo. Siamo agli inizi, ma sono gli inizi di Einstein, sono gli inizi di tutta la fisica moderna. Boltzmann è il colosso. Musil è un letterato che studia molto bene tutte queste tendenze che legge gli autori del neopositivismo, apprezza molto Carnap. Io sono quasi certo che in un modo o nell'altro abbia letto anche il Tractatus di Wittgenstein. Comunque vive in quell'ambiente, assorbe quelle atmosfere e rappresenta questo. Rappresenta questo in personaggi però, un po' come Dante, che riassume tutta la filosofia e la teologia di un'epoca incarnandola in figure. E Mussi fa una doppia operazione. Dà figura a questa nuova svolta, in senso appunto indeterministico, con una critica radicale di quella che poi i fisici quantistici chiameranno, la superstizione del principio di causalità, eccetera. Fin dall'inizio del romanzo, la prima scena del romanzo, in cui viene programmaticamente esposta questa visione probabilistico-statistica delle cose del mondo. Il mondo è la totalità dei casi. I casi, casi significa non che tutto è a caso, ma che tu devi, tu puoi intendere le cose, le puoi intendere, non le puoi intendere nella loro natura, se non appunto relativamente, cioè nel rapporto che si hanno tra di loro, nel rapporto che hanno col tuo sguardo, con colui che osserva, non sono mai in sé, ma sono sempre in rapporto allo sguardo e al sistema di misura che lo sguardo adopera per comprenderle, per conoscerle. Sono sempre in rapporto tra di loro e quindi non possono mai essere intese di per sé, non solo perché non sono in rapporto col soggetto, ma anche perché sono in rapporto tra di loro. E quindi la tua conoscenza è sempre una conoscenza che deve assumere una prospettiva, non potrai mai avere una visione panoptica della cosa. Sarà sempre una conoscenza, la dottrina della scienza sarà sempre una dottrina della prospettiva, una perspectiva l'ere, idea che è già ben presente in Nietzsche, l'evento Nietzsche per Musi. Ecco, questa idea si esprime nel romanzo soprattutto nella figura del protagonista, in Ulrich. Lo sguardo di Ulrich è esattamente questo, commisura, paragona costantemente. Il titolo tedesco non è reso in italiano dall'uomo senza qualità, perché qualità in italiano non ha l'eco che ha eigenschaften in tedesco. Dermann ohne eigenschaften, eigen, cioè davvero si dovrebbe quasi tradurre l'uomo senza proprietà, ma proprietà in un senso specifico, cioè questo uomo ha eliminato una duplice e complementare idea, che ci sia la cosa, un atomo materiale della cosa, e che vi sia un io. Sia la cosa che l'io vengono desostanzializzati. Questa è una cosa fondamentale anche per la fisica contemporanea, no? Heisenberg dice, non c'è la cosa, non c'è. Nella fisica delle particelle la cosa viene meno. Alla fine abbiamo che cosa? Numeri. Numeri abbiamo, proprio numeri. E richiamano esplicitamente Pitagora e Platone, esplicitamente. Nei loro testi più audaci, anche filosoficamente. Quindi la desostanzializzazione, l'uomo Ulrich è l'uomo che non ha proprietà né per quanto riguarda il suo rapporto con le cose, cioè non ha proprietà di cose e non ha proprietà di sé. Dermann ohne eigenschaften. Questo cosa vuol dire? Che è così? No! Che va in cerca di comprendere con esattezza questa nuova situazione, questo nuovo stato desostanzializzato, questo paradossale stato in cui non vi è usia, si direbbe aristotelicamente, in cui non vi è sostanza, ma vuole comprenderlo e vuole esprimerlo con la massima esattezza possibile. Questa perspectiva elere, questa coscienza, che io non posso afferrare la cosa simultaneamente in tutti i suoi aspetti, propriamente che non vi è una cosa sostanza e che il mio io sono molti, la molteplicità dell'io, 1900, Freud, tutto ciò deve dar vita ad una nuova forma di conoscenza. Ecco, catastrofe e rifondazione. Ulrich è di professione matematico, matematico perché vuole comprendere, non impressionisticamente riflettere i casi del mondo, ma vuole comprenderli statisticamente, cioè vi è una legge del caso, vi è una legge del caso matematicamente esprimibile, primo aspetto del romanzo. Secondo aspetto, ok, i casi possono essere anche statisticamente espressi, no? Io non so assolutamente che fine farà lei il prossimo anno, ma io so matematicamente che della sua età ne moriranno tot. Cioè, una scienza probabilistica, una previsione probabilistica, bene, come in meteorologia, infatti il romanzo comincia con una scena meteorologica. Però vi è un problema successivo, è possibile un approccio di questo genere anche per i problemi psicologici e del sentimento? Perché anche quello è realtà, ed è una realtà che interessa massimamente lo scrittore. È possibile un approccio di questo genere, un approccio, virgolette, statistico-matematico al problema del sentimento? Cioè una conoscenza che non sia più quella impressionistica e che non sia più neanche quella però moderna? Cioè il trattato delle passioni o la parte dell'etica di Spinoza che parla degli affetti, more geometrico. Eh no, quello non regge. Come non regge un determinismo per la scienza della natura, così non può reggere nessun approccio deterministico neanche in materia, diciamo, psicologica, neanche per tutto ciò che riguarda la psiche, l'anima. Ci può essere però una... Ecco, questa è la grande sfida della seconda parte del romanzo. Nel rapporto, nel dialogo tra fratello e sorella, cercano di dirsi con precisione i propri sentimenti, di comunicarsi come... e qui si tocca appunto tutta la dimensione mistica, ma in questo senso rifondativo, rifondativo perché la mistica in Musil nasce, ma anche in Wittgenstein, nasce da questo problema. È possibile appunto un approccio che non sia sentimentale, che non sia impressionistico e che non sia deterministico al problema del sentimento, che è ciò che conta per noi. Come diceva Wittgenstein nella fine del trattato, ho detto tutto questo, ma di ciò che conta per noi non ho detto proprio niente. Musil, cerco di dire. Ecco, rispetto, si è stato ovviamente evocato molto il problema della scienza, che chiaramente ha un ruolo fondamentale in questo passaggio storico e diventa anche un termine di riferimento. Ecco, per quanto riguarda in un qualche modo il problema del destino della filosofia, in un qualche modo nella sua ambizione, che in un qualche modo si è posta nel corso della sua storia, di in un qualche modo fornire un fondamento, un'architettonica appunto per le diverse scienze. Cosa accade appunto in questo passaggio storico appunto da un lato nel rapporto con le scienze e dall'altro nel rapporto con la politica, che poi, se vogliamo, sono anche i temi su cui si è soffermato quando si è affrontato Weber, è tornato su Weber appunto nel suo libro Il lavoro dello spirito. La filosofia è completamente assalita da questo problema, anche prima. Dopo Hegel, dopo il grande sistema hegeliano, se ci pensiamo un po', in una forma o nell'altra tutti i successori cosa dicono? Che la filosofia è finita, è zuende. Perché? Perché quella idea di una filosofia che ancora c'è in Kant, di una filosofia come fondamenti matematici, fondamenti metafisici della scienza della natura, titolo di un'opera di Kant, e tutto sommato programma della prima critica, della critica della ragion pura, fondamenti metafisici della scienza della natura, metafisici dove metafisica ha proprio il significato vero del termine, autentico del termine, cioè non un'astrazione, ma quei fondamenti che devono essere trovati oltre la osservazione e la descrizione dei fenomeni fisici, in modo che questa descrizione e osservazione diventi scienza, non sia empirica. Ancora in Hegel, in qualche modo, vi è questa idea, intanto è vero che Hegel chiama tutte le sue opere, alla fine le chiama scienza, non si dice la fenomenologia non è filosofia, no, è la scienza dell'esperienza della coscienza, questo è il vero titolo della fenomenologia, la logica è la scienza della logica, scienza. Cioè l'approccio, la filosofia si presenta come scienza, Hegel lo dice espressamente, non è più l'epoca della filosofia, del filosofein, cioè di un amore, di una tendenza, Platone, alla sofia. No, noi non siamo filosofi, siamo soffoi, sappiamo, sappiamo. I sistemi idealistici Fichte prima, Hegel dopo, Schelling cambia, ma anche per Schelling questa filosofia è alla fine, il secondo Schelling, il secondo Schelling, non il primo, il primo è completamente all'interno di questo schema del sistema dell'idealismo, ma il secondo Schelling critica la conclusione hegeliana, il compimento hegeliano anche da questo punto di vista. Poi tutti gli altri, Marx, scienza, Feuerbach, la critica della religione, una critica scientifica della religione, del fondamento poi per un superamento della filosofia come contemplazione, nel senso della Prassi, Marx, Kierkegaard, Nietzsche, la filosofia si sarebbe compiuta con Hegel, con il sistema dell'idealismo la filosofia giungerebbe ad un compimento. Tutto il discorso che abbiamo fatto prima, a mio avviso invece, implica un punto di vista diverso, perché se tutto quello che abbiamo detto riguardo proprio al concetto di crisi, di catastrofe, di rifondazione, eccetera, eccetera, ha un senso, questo significa due cose. Uno, che vi è bisogno di una storia, ma nel senso più forte del termine, di questa vicenda, che è una vicenda del moderno e del contemporaneo, ma che abbiamo visto si inserisce in un destino dello spirito europeo. E allora, prima di tutto, diciamo, occorre una memoria, una storia, ma nel senso più forte, un undenken, un pensare questa vicenda, che non può essere svolto certamente né nell'ambito ovviamente scientifico, né nell'ambito ovviamente psicologico, eccetera, eccetera. Primo aspetto. Secondo aspetto, problema che per me è fondamentale, ma lo era anche per Husserl. La crisi delle scienze europee è dominata da questa questione. E il, vi è o non vi è, relazione tra le diverse dimensioni in cui questa, diciamo, pure catastrofe e rifondazione si realizza. Quali sono i rapporti, quali sono le relazioni? questo può valere nell'ambito filosofico-scientifico, ma può valere anche nell'ambito che connette la dimensione filosofica-scientifica con la dimensione artistica nel senso più ampio del termine. Cioè, dobbiamo tener conto nella ricostruzione, nel pensare questa vicenda, diciamo così, dobbiamo tener conto soltanto di scienza e filosofia e dobbiamo fare la storia della loro relazione o dobbiamo tener conto anche di quella forma, delle altre forme del fare ed essenzialmente di queste due forme del fare. Una, il fare artistico, il poiein, la poiesa artistica e la seconda, la politica. Allora, chi deve prendersi cura di questo? e può essere nell'ambito epistemologico che abbiamo descritto prima il prendersi cura di questo? Può avere come intenzione quello di di dare a questo insieme di forme del fare un fondamento, filosofia prima, no, un fondamento, perché la ricerca di dare a tutto ciò un fondamento contraddirebbe che cosa? L'assunto fondamentale di questa catastrofe di rifondazione di cui abbiamo parlato prima anche popolito di Musi. Quindi è una ricerca, una costante ricerca della analogicità possibile tra queste diverse forme del fare, senza alcuna pretesa di giungere ad un compimento, nel senso classico niente in quello hegeliano. Ma questa ricerca, come la devo chiamare se non filosofia? e questa prospettiva, questa prospettiva, è una prospettiva come le altre, è una prospettiva, ma questa prospettiva può essere ritenuta superflua? Questa è la domanda che viene da tanto neopositivismo, eccetera, eccetera. Non da tanti grandi scienziati che se le sono poste per prima, da Heisenberg a Pauli Schrödinger, ma da un certo neopositivismo che è poi contraddetto in fondo proprio dalla nuova fisica quantistica, ma non importa questo. Può essere ritenuta superflua questa ricerca, può essere ritenuta superflua soltanto se noi intendiamo scienza, la scienza, proprio nel significato generale del termine, quel sapere che non può essere sapere, impiego, eccetera, se lo intendiamo soltanto come un sapere di fatti. Allora, se intendiamo il sapere soltanto come un sapere di fatti, una rappresentazione la più coerente possibile di fatti, possiamo ritenere superflua l'interrogazione che non saprei come chiamare se non filosofica di cui prima parlavo. Ma se invece intendiamo fondamentale anche la relazione, la relazione non è un fatto. Ma se la relazione, il problema e l'interrogazione della relazione viene meno, che cosa abbiamo? Abbiamo il sapere ridotto a disiecta membra. Abbiamo, cioè, quel drammatico problema che Husser denunciava di uno specialismo per cui ogni parte non pensa più e non si pensa più come parte. perché per pensarmi come parte io devo assumere il problema della mia relazione con l'interro. Ecco, abbiamo visto ovviamente anche le radici appunto di questo processo ed è un processo in cui siamo pienamente immersi. Totalmente immersi. diciamo, ecco, quali sono state in un qualche modo alcune degli elementi, delle linee del dispiegamento appunto di questo processo nel secolo che appunto ci separa da... Il problema è questo, il problema è questo, cioè di uno, Weber vedeva un processo di specializzazione e si poneva la domanda che poi drammaticamente si pone Husserl. Vi sono queste straordinarie affinità tra questi grandi del primo novecento, tra la prima metà del novecento, tra Husserl, Weber, Musil, io spesso ho sottolineato queste affinità che tra l'altro non risultano se uno vede Weber, sociologo, Musil, critica, tema e problema per il critico letterario e quell'altro tema e problema per il filosofo. Attraverso questi meccanismi non si capisce niente, non si capisce niente, molto semplicemente, cioè meglio non si pensa perché il pensare significa vedere la relazione e la relazione non è un fatto e qui è il compito della filosofia a mio avviso, non più di una filosofia con la pretesa della fondazione metafisica del sapere scientifico, non più come la filosofia come appunto filosofia prima che detta questo fondamento, ma pone questo problema proprio filosofico, sì, alla faccia di Hegel, filosofia, è una ricerca che non potrà compirsi perché di volta in volta queste relazioni si porranno anche in modo diverso a seconda delle condizioni, dei diversi saperi, delle diverse forme del fare, ma è un problema filosofico, è un problema che riguarda la scienza perché una scienza che non pensa a questo problema è una scienza che assume come totalità il proprio specialismo con conseguenze che possono essere tremende e poi è un problema politico che era il tema del mio lavoro dello spirito, è un problema politico perché una scienza semplicemente specialistica che non pensa più la sua relazione con l'intero è una scienza che volente o non volente verrà dominata dall'apparato tecnico, economico, finanziario. ne viene completamente sussunta ed integrata. Questa non è una prospettiva apocalittica o altro, è una derivazione logica, una derivata logica perché soltanto se io penso la mia relazione con l'intero posso porre il problema di volere che questa relazione si determini in una forma o nell'altra. Se non la vedo, se neanche la concepisco è chiaro che l'intero mi dominerà e siccome le potenze dell'intero oggi sono quelle tecnico, economico, finanziarie la conseguenza sarà questa cioè di una scienza succube e quindi quel valore che assumeva la scienza nel moderno che io ricordo nel lavoro dello spirito appunto quel valore fondamentale di concepirsi come un processo di liberazione necessariamente vi è meno perché questo processo di liberazione non è un fatto e se tutto è superfluo perché l'osservazione e la descrizione scientifica dei fatti diventa superfluo questo problema non mi interessa è appannaggio di un altro sarà appannaggio di un altro a me non interessa lo delego ecco e come si può in un qualche modo agire affinché questo spazio appunto per il pensiero che lei ha delineato possa in un qualche modo essere presente manifestare la filosofia la filosofia come pensiero critico dove emerge quest'altro aspetto della crisi perché la crisi è giudizio crisi l'etimo di giudizio crinen è giudicare quindi non vi è crisi senza giudizio non vi è crisi nessuna accezione del termine se non è operante nella crisi un giudizio e finora abbiamo parlato di come giudicare appunto questa crisi catastrofe di rifondazione come si può giudicare questo è il presupposto dopodiché tu ti collocherai in un modo o nell'altro deciderai la tua la tua la tua posizione all'interno di questo processo in una forma o nell'altra ma per porti per porti tu porti nel tuo nel tuo stesso specialismo all'interno di questo processo devi pensare questo processo nei termini che abbiamo detto e quindi devi pensarlo filosoficamente non è la filosofia che insegna a te scienziato tu scienziato devi porti filosoficamente rispetto a questa situazione e questo è esattamente il modo in cui va intesa anche la repubblica platonica dove non si dice che il filosofo deve essere re si dice che la conduzione della cosa pubblica della politeia deve essere filosofica non che il filosofo deve fare il re ma deve essere filosofica la conduzione della città bene allora grazie appunto per questa per questa conversazione per queste queste tematiche che abbiamo approfondito appunto di grandissimo interesse ringraziamo appunto Massimo Cacciari per essere stato con noi qui oggi e vi invitiamo a leggere appunto i suoi ultimi suoi ultimi lavori in particolare l'ultimo paradiso e naufragio uscito per Inaudi grazie a tutti per l'attenzione per averci ascoltato e vi diamo appuntamento alla prossima puntata dei dialoghi di Pandora Rivista grazie per aver guardato questo dialogo se l'avete apprezzato lasciate un like e se volete essere aggiornati su tutti i nuovi video di Pandora Rivista iscrivetevi al canale è anche un modo per supportare il progetto